Siamo qui al Grand Hotel della Minerva con Eleonora Daniele. So che lei è una fan di Padre Pio. Sì, sono una fan, ho detto bene, anche perché Padre Pio ormai è divenuto un po' un'icona pop, per cui un'icona però anche di grande valore, di grandi sentimenti e soprattutto una figura alla quale io sono molto legata e per cui provo davvero un grande affetto. Ho raccontato tantissime storie su Padre Pio, ho parlato spesso e volentieri di questi temi, anche di Raffaele, legati chiaramente a tutto il contesto di Padre Pio e non solo e devo dire che ho sempre sentito una particolare vicinanza verso questa figura.